Diamo il buongiorno a Don Antonio Mazzi, come ogni mattina, per la frase del Don. Ciao Don. Ciao, ciao, ieri ero dai morti, quindi non ce l'ho fatta venire. Abbiamo immaginato. La frase, la frase, educhiamo i nostri ragazzi a capire cos'è l'infinito, l'eterno, il soprannaturale. Educhiamo i nostri ragazzi a capire cos'è l'infinito, l'eterno, il soprannaturale. Il soprannaturale. Soprattutto in questi giorni. Wow, ci mettiamo, ciao Don, ciao, ciao, buona giornata. Ciao Don, a domani mattina.